De profundis Un assai lungo momento è il soffrire, ma non possiamo dividerlo per stagioni, ma soltanto renderci conto dei suoi modi e calcolarne i ritorni. Per noi il tempo stesso non cammina, e sembra piuttosto descrivere un circolo intorno ad un centro di dolore. La paralizzatrice immobilità di un'esistenza, in cui ogni particolare è regolato da un'immutevole respota, in modo che non mangiamo, beviamo, dormiamo e preghiamo, o almeno ci inginocchiamo per pregare, secondo le leggi di una formula ferrea, Questo carattere statico, che rende fin ai più piccoli atti, ogni giornata uguale alla precedente, pare che si comunichi a tutte quelle forze esterne delle quali l'essenza consiste appunto in un mutamento continuo. Noi non sappiamo nulla del periodo della semina o del raccolto. Dei mettitori proni in mezzo alle spighe, o dei vendemmiatori sparsi per i vigneti, nulla sappiamo dei prati verdi, che gli alberi di primavera nevicano di petali, e che gli alberi del verziere in autunno cospargono di frutti maturi. E nulla mai ne possiamo sapere. Per noi non c'è che una stagione, quella del dolore. Sembra che ci abbiano anche defraudato del sole e della luna. Fuori il cielo può essere d'azzurro e d'oro, ma la glossa vetrata del piccolo abbaino dalle sbarre di ferro sotto cui ci si accuccia non lascia filtrare appena che una povera luce sporca. Dentro le celle c'è sempre la semichiaria del crepuscolo. E il crepuscolo invade pure ogni cuore. Nell'orbita del pensiero, come in quella del tempo, il moto non esiste più. La cosa stessa che, da gran pezzo voi personalmente avete dimenticato, o che potete dimenticare con facilità, la medesima cosa, mi succede ancora in questo stesso momento, e mi accadrà nuovamente domani. Tenete presente tutto ciò, e vi sarà possibile comprendere il perché io scrivo in questo tono. Una settimana dopo mi traferiscono qui. Passano ancora tre mesi e mia madre muore. Nessuno seppe quanto profondamente io la massi e la venerassi. La sua morte fu per me una cosa terribile. Ma io, da un tempo principe dello stile, non trovo nemmeno una parola per esprimere la mia anguscia e la mia vergogna. Essa e mio padre mi avevano lasciato in retaggio un nome glorioso d'onore e di nobiltà, non solo nei campi della letteratura, dell'arte, dell'archeologia e della scienza, ma anche nella storia del mio paese d'origine e nella sua evoluzione nazionale. Ebbene, io ho ammacchiato questo nome d'un obrobrio eterno. Io ne ho creato un epiteto ignobile per il volgo. Io l'ho trascinato nel fango. Io l'ho dato in balia dei bruti affinché lo rendano brutale e ai nemici perché ne facciano un sinonimo di follia. Quel che ho sofferto allora è lo strazio che ancora oggi io provo? No, nessuna penna lo potrà scrivere, nessun foglio di carta lo potrà rivelare. Mia moglie, sempre buona e nobile verso di me, temendo che la notizia della sciagura mi giungesse per mezzo di estranei, quantunque tanto malata, si mise in viaggio da Genova per l'Inghilterra per finire essa stessa ad annunciarmi questa perdita irreparabile. Le lettere di simpatia mi arrivarono da tutti coloro che avevano ancora asserbato dell'affetto verso di me e perfino delle persone che io non avevo mai conosciuto direttamente, quando seppero che una nuova disgrazia era venuta ad abbattersi sulla mia vita, grissero pregando di comunicarmi che si merano accanto nel grande dolore. Tre mesi passano. La tabella calendario della mia condotta e del mio lavoro giornaliero, appesa esternamente sull'uscio della mia cella, con scritto vi sopra il mio nome e la mia condanna, mi informa che siamo giunti al mese di maggio. La prosperità, il piacere e il successo possono essere volgari e refrattari, ma il dolore è la più sensibile di tutte le cose create. Nulla succede nel mondo del pensiero cui il dolore non faccia eco con delle vibrazioni infinitamente vive e terribili. In suo confronto, la sensibilissima foglia d'or battuto, che indica la direzione delle forze che l'occhio non riesce ad afferrare, è grossolana. Il dolore è una ferita che sanguina quando una mano la tocca, tranne quella dell'amore, e anche premuta da una carezza buona, essa fa sangue, quantunque non la stazzi più la sofferenza. Dovunque c'è il dolore, i vi santa è la terra. Un giorno si capirà ciò che questo significa. Nulla si saprà prima di questo, e delle indoli come la sua, sì, possono comprendere. Quando, costretto fra due gendarmi, io fu condotto alla mia prigione alla corte dei fallimenti, attese nel lungo e tragico corridoio per potersi togliere con atto grave il suo cappello davanti a me, incospetto della folla che fu ridotta al silenzio da un gesto così semplice e così dolce, mentre io passavo innanzi a lui con le manette ai polsi e con la testa china. Molti uomini si sono guadagnati il regno dei cieli con delle opere assai meno meritevoli di questa. Non è con tale spirito, forse, che animati da simile amore che i santi si inginocchiavano per lavare i piedi dai poveri o si curvavano per baciare sulle guance i lebrosi? Io non gli ho mai detto una parola di ciò che gli fece quel giorno. Non so nemmeno in questo momento se gli pensa che io abbia potuto intravedere il suo atto. Ah, non è una cosa per la quale si rivolgono dei ringraziamenti formali con delle parole formali. Io l'ho racchiusa nel tesoro del mio cuore. Vivi la serbo come un debito segreto che sono felice di pensare che non potrò assolvere mai. La imbalsamo e la rinfresco con la mirra e gli aromi di infinite lagrime. Guardate, la mia sazzezza non mi riuscì di nessun profitto e la filosofia rimase infeconda e gli adagi e le frasi di coloro che tentarono di consolarmi furono come della polvere e della cenere nella mia bocca. Ma ricordo di quel piccolo gesto d'amore, adorabile e silenzioso, ha riaperto per me tutte le fonti della pietà, ha fatto fiorire il deserto come una rosa, ma strappato dalla disperazione solitaria dell'esilio, per mettermi in armonia col grande cuore ferito e spezzato del mondo. Quando gli uomini saranno capaci di comprendere non solo quanto quel gesto fu bello, ma pure quale intimo significato ebbe per me e quale valore avrà per me sempre, allora, forse, essi sapranno in che modo e in quale stato d'animo mi devono avvicinare. I poveri sono saggi e più caritatevoli e più propensi alla bontà di noi altri. Per loro la prigionia è una tragedia nella vita di un uomo, una sciagura, una disgrazia, qualche cosa, insomma, che merita la simpatia altrui. Essi parlano di colui che è in carcere come di uno che passa un guaio, semplicemente. È un'espressione che adoperano sempre ed essa contiene la perfetta saggezza dell'amore. Invece, con le persone del nostro ceto è diverso. Per noi la prigione trasforma un uomo in un paria. Io e alcuni altri, nel mio stesso caso, non abbiamo diritto né all'aria né al sole. La nostra presenza turba la gioia degli altri. Siamo ricevuti come degli intrusi quando ritorniamo nel mondo. Non ci si vorrebbe lasciar godere nemmeno il chiaro di luna. E i nostri figliuoli? Non ci riportano via? Così ci si spezzano questi dolcissimi vincoli che ci ricollegano all'umanità. Siamo dannati alla solitudine, mentre i nostri figli sono pur vivi. Ci rifiutano l'unico mezzo che potrebbe guarirci e farci rinascere, l'unica dolcezza che sarebbe in grado di spandere un balsamo sul cuore angosciato e di mettere un po' di pace nell'anima in pena. Bisogna, sì, che io mi dica che da me stesso io mi sono distrutto e che nessuno piccolo o grande non si può rovinare che con le sue proprie mani. Io sono pronto a dirlo. Mi sforzo di confessarlo quantunque forse in questo momento non lo si creda. Senza alcuna compassione io sostengo contro di me l'implacabile accusa. Per quanto terribile sia stato ciò che il mondo mi ha fatto di male, quel che io fece a me stesso fu più tremendo ancora. Ero in simbolica comunione con l'arte e con la cultura del mio tempo. Sul principio della mia virilità io avevo compreso e avevo in seguito forzato i miei contemporanei a comprenderlo. Pochi uomini durante la loro vita hanno occupato un posto simile al mio col pieno riconoscimento altrui. La posizione ideale di un artista è messa in luce di solito, seppur lo è, dallo storico o dal critico molto tempo dopo che l'artista e la sua età sono scomparsi. Invece per me la cosa accadde diversamente. Io ne ebbi la coscienza e la diedi anche agli altri. Byron fu una figura simbolica, ma relativamente alla passione e alla stanchezza passionale della sua opera. Il mio rapporto col mio tempo fu più nobile, più costante, di una importanza ed un valore più grandi. gli dei mi avevano quasi tutto donato, ma io mi lasciai poltrire e mi concessi dei lunghi periodi di tregua insensata e sensuale. Mi divertii a fare lozioso il dandy, l'uomo alla moda. Mi circondai di poveri caratteri e di spiriti miserevoli. Divenni il prodigo del mio proprio genio e provai una gioia bizzarra nello sperperare una giovinezza eterna. Stanco di vivere sulle cime, discesi volontariamente in fondo agli abissi. per cercarvi delle sensazioni nuove. La perversità fu nell'orbita della passione quel che il paradosso era stato per me nella sfera del pensiero. Infine il desiderio si cangiò in una malattia o in una follia o in entrambe le cose. Divenni non curante della vita altrui, colsi il mio bene dove mi piacque e passai oltre. Dimenticai che ogni più piccola azione quotidiana forma o deforma il carattere e che per conseguenza ciò che si è compiuto nel segreto della propria intimità si saravai costretti a proclamarlo al mondo intero. Così non fui più padrone di me stesso, non riuscii più a dominare la mia anima e la ignorai. Permisi al piacere di governarmi e finii con l'essere abbattuto da una sventura orrenda. Adesso non mi rimane più che una cosa, l'assoluta umiltà. Ecco quasi due anni, tra poco, che io sono in prigione. Da principio una selvaggia disperazione cominciò ad impossessarsi di me. Mi abbandonavo a una pena tale che era disprezzabile anche a vedersi, a un'ira terribile ed impotente, all'angoscia, all'indignazione, alla tortura che mi strappava i più acuti singhiozzi, a una miseria che non aveva nessuna voce per esprimersi, a un dolore muto. Sono passato attraverso tutte le forme possibili della sofferenza. Meglio ancora di Woodford, io pensò ciò che gli intese di dire in quel suo distico. La sofferenza è costante e oscura, è misteriosa e ha la natura dell'infinito. Ma quando talvolta io mi rallegro all'idea che le mie sarebbero interminabili, non potevo però sopportare che se fossero prive di significato. Ora io trovo riposta in un oscuro angolo della mia natura qualcosa che mi dice nulla c'è al mondo che sia vuoto di senso e di soffrire meno di qualunque altra cosa. Questo quid nascosto nel più profondo del mio io come un tesoro in un campo è l'umiltà e l'ultima cosa che mi resta è la migliore. È l'estrema scoperta alla quale io sono arrivato e il punto di partenza di tutto uno sviluppo nuovo. È una verità che si è formata nel mio intimo essere e così pure io so che sei venuta in un momento favorevole. Se alcuno me ne avesse parlato l'avrei respinta ma siccome l'ho trovata io stesso ci tengo a serbarla. Bisogna che io la conservi è l'unica cosa che ha in sé i germi della vita di una nuova esistenza una vita nuova per me. Tra tutte le cose essa è la più strana non si può acquistarla che a patto di rinunciare a tutto ciò che si possiede e solamente quando si è tutto perduto mi si accorge di averla guadagnata. Ora che ho capito che sai in me io vedo assai chiaramente ciò che in realtà occorre che io faccia. e allorché adopero una frase come questa non ho bisogno di aggiungere che non alludo a nessuna sanzione a nessun ordine imperativo dal di fuori. Io non ne ammetto sono molto più individualista di quanto non lo sia mai stato. Niente mi sembra che abbia il minimo valore tranne ciò che si estrae dalla propria intimità. La mia indola è in traccia ad un nuovo mezzo di realizzazione. Ecco tutto ciò di cui io devo preoccuparmi. e la prima cosa che mi occorre è questa liberarmi di qualsiasi risentimento amaro contro il mondo. Io sono completamente senza denaro assolutamente senza focolare eppure c'è qualcosa di peggio sulla terra. Sono del tutto sincero quando affermo che piuttosto che lasciare questo carcere conservando nel mio cuore dell'amarezza contro il mondo preferirei di vendicare con gioia il mio tozzo di pane di porta in porta. Se non ottengo nulla dal ricco riceverò pur qualche cosa dal povero. Coloro che molto possegono sono di solito avari ma quelli che hanno ben poco lo dividono volentieri. Non mi farebbe nessun caso il dormire sulla fresca erba in estate e a sopraggiungere dell'inverno ripararmi al caldo di un mucchio di fieno sotto la tettoia di una capanna purché avessi sempre dell'amore dentro il mio cuore le cose esterne della vita mi pare ora che non abbiano più alcun valore voi vedete dunque a quale intensità di individualismo io sono arrivato o piuttosto io vado accostandomi poiché il viaggio è ancora lungo e sulla strada per la quale io cammino ci sono delle spine certo so bene che andare lemosinando per la via non sarà il fatto mio e che se io mi stendessi la sera sull'erba fresca mi comporrai dei sonetti alla luna quando uscirò di prigione R. mi aspetterà al di là dell'enorme portone ferrato ed egli è il simbolo non solo del suo proprio affetto ma anche di quello di molti altri credo ad ogni modo che avrò da vivere per circa diciotto mesi e se non potrò per il momento scrivere dei bei libri almeno potrò leggerne e quale felicità sarà più grande in seguito spero d'essere capace di riacquistare le mie facoltà creatrici ma se accadesse altrimenti se non mi restasse più un amico al mondo se nessuna casa mi fosse più aperta neanche per pietà se dovessi prendere la pisaccia e il tabarro logoro della miseria assoluta fino a quando io fossi libero da ogni risentimento da ogni rancore da ogni indignazione potrei sempre affrontare la vita con molta più calma e fiducia che se il mio corpo fosse coperto di porpora e di rino prezioso e la mia anima scoppiasse di odio né avrò veramente nessuna difficoltà quando si desidera con fede l'amore lo si trova là e ci attende inutile dire che il mio compito non termina qui se fosse così sarebbe troppo facile c'è ben altro davanti a me devo scalare delle montagne assai più irte ad attraversare delle valle infinitamente più cupe e mi bisogna trarmi d'impaccio con le mie sole mani né la religione né la morale né la ragione mi possono dare alcun giovamento no la morale non mi aiuta io sono un antinomistanato sono di quelli che sono fatti per le eccezioni e non per le regole ma mentre io vedo che non c'è niente di male in ciò che si compie mi accorgo però che c'è qualcosa di cattivo in ciò che si diventa ebbene anche aver imparato questo la religione non mi aiuta la fede che altri nutrono per ciò che è invisibile io la dedico a quel che si può toccare e osservare i miei dei abitano nei tempi costruiti dalla mano dell'uomo ed è solo nell'ambito dell'esperienza reale che la mia fede si definisce e si completa essa è troppo integra forse perché come molti di coloro tutti coloro che hanno collocato il loro cielo sopra la terra e ovvio scoperto non pure la bellezza del paradiso ma anche dell'inferno quando penso alla religione sento che mi piacerebbe fondare un ordine monastico per coloro che non possono credere si dovrebbe chiamare la congrega degli infelici e nei suoi riti davanti a un altare privo di qualsiasi fiamma di ceri un prete senza pace nel cuore celebrerebbe l'ufficio con del pane profano o un calice vuoto ogni cosa per essere vera deve diventare una religione e l'agnosticismo come una qualunque altra religione dovrebbe avere le sue cerimonie non ha esso seminato dai martiri va bene dovrebbe mietere i suoi santi e lodare ogni giorno il signore per essersi nascosto agli occhi degli uomini ma sia la fede o l'agnosticismo né l'una né l'altro mi devono rimanere due fatti esterni bisogna che i loro simboli siano una mia creazione stessa spirituale è soltanto ciò che foggia la sua propria forma se non posso riuscire a trovarne segreto nel mio intimo io non lo scoprirò giammai se non lo reco con me non mi si rivelerà mai più la ragione non mi aiuta essa mi dice che le leggi secondo le quali mi hanno condannato sono ingiuste e crudeli e che il sistema sociale per cui ho sofferto è ingiusto e malvagio ma tuttavia occorre ch'io le creda giuste e rette e precisamente come nel campo dell'arte non si si occupa se non del valore che un fatto particolare ha di per se stesso in un particolare momento così succede nell'evoluzione etica del carattere occorre ch'io ritenga come un bene per me tutto ciò che mi è accaduto il letto di tavola il cibo nauseabondo le due funi che si devono sfilacciare in istoppa sino a che le dita indolenzite divengono insensibili i vili corvè con le quali cominciano e finiscono le giornate gli aspri comandi che sembrano una necessità dell'ordine l'orribile casacca che rende persino grottesco il dolore il silenzio la solitudine la vergogna tutto questo bisogna che io lo trasformi in esperienza spirituale non c'è neppure una degradazione del corpo che non contribuisca a spiritualizzare l'anima voglio arrivare ad un punto tale che mi sia possibile dire semplicemente senza ostentazione di sorta che le due grandi date della mia vita corrispondono ai giorni in cui mio padre mi mandò ad Oxford e in cui entrai in galera io non dirò che la prigione sia la miglior cosa che mi sia capitata perché questa frase avrebbe un sapore di eccessiva amarezza verso di me preferirei dire o sentir dire di me stesso io sono stato una natura così tipica del mio tempo che nella mia perversità e per amore di questa perversità ho mutato le buone cose della mia vita in male e le cattive in bene tuttavia ciò che gli altri dicono che io dico interessa poco la cosa importante che mi si offre e che devo fare se il breve periodo dei miei giorni a venire non sarà sciupato né perduto né troncato consiste nell'assorbire in me tutto ciò che mi è stato fatto ed incorporarmelo e di accettarlo senza rimpianto senza paura senza ripugnanza il male supremo è la superficialità tutto ciò di cui ci si rende conto è bene nei primi tempi della mia prigionia alcuni mi consigliarono di dimenticare chi io ero disastroso consiglio invece soltanto rendendomi ragione di quel che sono ho potuto trovare un po' di conforto adesso altri mi esortano a dimenticare quando sarò libero d'essere mai stato in carcere so bene che sarà fatale ugualmente ciò significa che io sarei senza tregua porturato da un sentimento intollerabile di sventura e che tutte le cose create per me come per gli altri la bellezza del sole e della luna il corteo delle stagioni la musica dell'aurora e il silenzio della notte fonda la pioggia che scroscia tra le foglie e la rugiada che inargenta ai prati tutte queste meraviglie diventerebbero opache per me perderebbero il loro potere di guarire e di comunicare la gioia rammaricarsi delle esperienze fatte vuol dire arrestare il proprio sviluppo negarle equivale a mettere una menzogna sulle labbra della nostra vita sarebbe come rinnegare l'anima perché come il nostro corpo assorbe sostanze di ogni sorta cose volgarie ed impure ed anche quelle che un sacerdote o una visione hanno purificato e le converte in forza e in agilità in gioco armonico di muscoli in carni delicate in capelli ricciuti e multicolori in labbra e in occhi ridenti così l'anima a sua volta ha le proprie funzioni nutritive e può trasformare in nobiltà di pensieri e in passione di gran valore ciò che per sé stesso è vile crudele e degradante e a maggior ragione essa può trovarvi sui più efficaci mezzi di affermazione e rivelarsi più perfettamente mediante ciò che era destinato alla profanazione e alla distruzione mi occorre sottomettermi francamente al fatto di essere stato il carcerato ordinario di una ordinaria prigione e quantunque ciò sembri curioso bisognerà che io impari a non provarne vergogna è necessario accettare la cosa come un castigo e se uno è vergognoso della pena sofferta tanto valeva non averla mai nemmeno patita certamente ci sono molte colpe di cui mi hanno accusato e che io non ho mai commesso ma c'era il gran numero che mi hanno rimproverato e che in realtà ho compiuto è un numero più grande ancora di quelle che ho commesso e delle quali non sono mai stato accusato e poiché gli dei sono strani e ci puniscono tanto per ciò che è umano e buono in noi quanto per ciò che è cattivo e perverso io devo sottomettermi alla legge che fa pagare il fio sì per il bene che per il male compiuto non ho nessun dubbio sulla perfetta giustizia di ciò questo Giova dovrebbe giovare a comprendere due cose e a non provare nessuna vanità né per l'una né per l'altra se dunque io non ho alcuna vergogna del mio castigo come spero sarò capace di pensare di camminare e di vivere libero non pochi uomini dopo la loro liberazione portano con sé la prigione nell'aria che li circonda e alla fine come delle povere creature avverenate si cacciano in qualche buco per morirvi è ben triste che si siano ridotti a questo e la società che ve li costringe è ingiusta tremendamente ingiusta la società sarroga il diritto di infliggere all'individuo dei castighi spaventevoli ma essa anche il difetto supremo ad essere superficiale e di non giungere a comprendere ciò che fa quando il castigo è subito la società abbandona l'uomo a se stesso vale a dire proprio nel momento nel quale dovrebbe cominciare il suo più alto dovere verso di lui essa ha paura delle azioni e rifugia da coloro che ha punito come si evita un creditore del quale non ci si può liberare o l'uomo a cui si è imposta un'irreparabile sorte da parte mia io esigo che se mi rendo ragione di quanto ho sofferto la società deve capire ciò che mi ha inflitto e per conseguenza non c'è amarezza né odio da una parte né dall'altra o lo riconosco che da un certo angolo visuale le cose saranno per me molto diverse da quel che sono per gli altri ed è necessario per la natura stessa del mio caso che se siano così i poveri ladri e gli ammoniti incarcerati qui con me sono sotto molti aspetti assai più felici che io non sia il cantuccio di città oscura o di campo verteggiante che assistette alla loro colpa è piccolo per trovare gente che ignori il loro delitto essi non hanno da superare una distanza maggiore di quella che un uccello percorre dal crepuscolo all'alba ma per me il mondo è ridotto ad un palmo e da qualsiasi lato io mi volga il mio nome è vergato con lettere di piombo sulla roccia poiché io non sono entrato dall'oscurità nella sfera di luce effimera del delitto ma bensì da una specie di eternità di gloria in una specie di eternità di infamia e mi sembra talvolta di aver dimostrato seppure occorre questa prova che tra l'uomo famoso e l'infame non c'è che un passo e forse anche meno di un passo pertanto nel fatto che gli uomini mi riconosceranno dovunque io vada e che conosceranno la mia vita almeno nelle sue ore di follia io vedo un bene per me ciò mi costringerà ad affermarmi nuovamente come artista e al più presto possibile se riuscirò a creare una sola e bella opera d'arte mi sarà possibile di trovare un antidoto al veleno della malizia di smontare i sarcasmi dei vili e di sradicare la lingua del disprezzo se la vita come essa è sicuramente deve anche per me essere un problema io non sono un quesito di minor valore per la vita stessa gli uomini dovranno assumere qualche attitudine a mio riguardo attraverso un giudizio su di sé medesimi e su di me non faccio nessuna allusione personale i soli coi quali mi piacerebbe di trovarmi in compagnia ora sono gli artisti e coloro che hanno sofferto coloro che sanno cos'è la bellezza e che sanno cos'è il dolore tranne costoro nessun altro mi interessa e non domando più niente alla vita in tutto ciò che ho affermato fin qui io non mi preoccupo che della mia attitudine mentale verso la vita considerata nel suo insieme presento che uno dei primi punti che devo toccare per la mia propria perfezione e perché io sono così imperfetto si è di non vergognarmi di essere stato punito in seguito bisognerà imparare ad essere felice un tempo conoscevo la felicità per istinto o almeno credevo di conoscerla era sempre la primavera nel mio cuore una volta mi occorreva la gioia ed ero nato per essa sino all'estremo limite io riempivo la mia vita di piacere come si colma sino all'orlo una coppa di vino adesso è da un punto di partenza del tutto nuovo che mi accosto alla vita ed anche il concepire la felicità mi riesce spesso difficile mi ricordo durante il mio primo semestre a Oxford di aver letto nel rinascimento di Walter Peter un libro che ebbe nella mia vita una così strana influenza che Dante pone nel profondo inferno coloro che vivono spontaneamente nella tristezza andai subito in biblioteca e cercai quel passo della divina commedia là dove è detto che al di sotto della sinistra palude già sono quelli che furono tristi nella dolcezza dell'aria ripetendo tristi fumo nell'air dolce che dal sol s'allegra sapevo che la chiesa condannava l'accidia ma questa idea mi parve assolutamente fantastica come un genere di peccato inventato da un sacerdote ignorante della vita reale non potevo neppure capire come Dante il quale dice che il dolore ci unisce a Dio fosse così aspro verso gli innamorati della melanconia dato che davvero ne esistessero non sospettavo allora che questa diverrebbe un giorno una delle più grandi tentazioni della mia vita durante la mia permanenza nel carcere di Wandsworth io ero malato da un languere di morte era il mio unico desiderio morire poi quando fui trasferito qui dopo due mesi di infermeria e mi accorsi che la mia salute andava migliorando a poco a poco fui preso dall'ira decisi di suicidarmi il giorno stesso in cui sarei uscito di prigione dopo qualche tempo questo furioso eccesso si calmò e stabilì invece di vivere ma di fasciarmi tutto di tristezza come un re si panneggia nella sua porpora di mutare in un luogo di pianto ogni casa della quale avessi varcato la soglia di imporre ai miei amici la sottile tortura della mia ipocondria di insegnar loro che la tristezza è il vero segreto della vita di tormentarli con un dolore che fosse loro estraneo di soffocarli con la mia pena ora ho i sentimenti molto diversi capisco che sarebbe un'ingratitudine ed una crudeltà da parte mia atteggiarmi in modo che quando i miei amici mi incontrassero fossero costretti a mostrarsi ancora più melanconici di me per testimoniarmi la loro simpatia oppure per riceverli e offrir loro un degno trattamento invitarli a sedersi silenziosamente davanti a delle erbe amare o a dei cibi funerari no bisogna che io impari ad essere gaio e felice le due ultime volte che io ebbi permesso di vedere qui i miei amici provai ad essere allegro per quanto possibile e di mostrare la mia gaiezza per compensarli un poco il disturbo che essi si erano presi venendo sin qui dalla capitale non fu che un compenso molto molto lieve lo so ma son certo che a loro piacque sono passati otto giorni sabato da che ho rivisto R per un'ora e mi sforzavo di mostrare nel modo più espressivo possibile la gioia che provavo in quell'incontro il fatto che ora per la prima volta in tutta la mia prigionia io sento un reale desiderio di vivere mi prova che ho ragione nelle idee e nelle opinioni che formulo qui per me stesso tanto lavoro davanti a me che mi parrebbe una terribile tragedia il morire prima di averne potuto compiere almeno una parte scorgo nell'arte e nella vita degli sviluppi imprevisti di cui ciascuno è un nuovo mezzo di perfezione bramo di vivere per esplorare questo mondo nuovo per me volete dunque sapere in che consiste questo nuovo modo credo che lo possiate anche indovinare è il mondo nel quale ho vissuto il dolore infine è tutto ciò che il dolore insegna ecco il mio nuovo mondo vivevo un tempo esclusivamente per il piacere allontanavo da me i patimenti e il dolore in ogni loro aspetto li odiavo avevo risoluto di ignorarli sino a quando mi fosse stato possibile vale a dire di considerarli come delle forme di imperfezione sofferenza e dolore non sarebbero entrati nell'orbita della mia vita non avevo nemmeno un posto nella mia filosofia mia madre che conosceva la vita intera mi citava spesso i versi di Goethe scritti per Cardyle su una pagina ad un libro che gli aveva donato una volta e tradotti così da lui stesso colui che non ha mai mangiato il suo pane nel dolore che non ha mai passato le ore della notte ad attendere piangendo il mattino che tarda colui che non vi conosce o potenze del cielo erano i versi che quella nobile regina di Prussia trattata da Napoleone con tanta glossolana brutalità recitava nella sua umiliazione e nel suo esilio erano i versi che mia madre mi ripeteva spesso nel tormento della sua vita prossimo a spegnersi io rifiutai allora assolutamente di riconoscere o d'ammettere le enorme verità che si contenevano mi rammento molto bene che io le ripetevo di non aver mai nessun desiderio di mangiare il mio pane nel dolore e di trascorrere le notti aspettando in pianto un'alba d'amarezza non avevo nessuna idea che proprio là eravi nascosta una delle singolari sorprese tenute in serbo dal destino per me e che veramente non altro io farei se non mangiare il mio pane nel dolore per un anno intero ma è così che anch'io ho avuto la mia parte e che durante questi ultimi mesi ho potuto comprendere verso ostacoli e lotte senza pari qualcuno degli insegnamenti che si celano nell'intimo del dolore preti e gente che adoperano frasi senza misura parlano alle volte della sofferenza come d'un mistero invece essa è una rivelazione fa distinguere delle cose che non si erano mai vedute prima e permette di considerare l'insieme della storia da un punto di vista tutt'affatto diverso quel che intorno all'arte ad esempio si era sentito in modo vago e per istinto ora lo si afferma intellettualmente ed emozionalmente con una chiarezza perfetta di visione e con una intensità assoluta comprensiva ormai io sono persuaso che poiché il dolore è la suprema emozione di cui è suscettibile l'uomo esso è ad un tempo il tipo e il modello di ogni grande arte ciò che l'arte reca continuamente è quella certa maniera ad essere nella quale anima e corpo divengono uni e indivisibili nella quale l'esteriore è l'espressione dell'intimità in cui la forma stessa è una rivelazione tale maniera ad essere non sono numerose in un dato momento ci possono servire di modello la giovinezza e l'arte che si preoccupa della giovinezza e in un altro noi possiamo credere invece che per la sua finezza e sensibilità ad espressione per l'idea che suggerisce ad uno spirito diffuso negli oggetti esterni e che si riveste volta a volta d'aria e di terra di nebbia e di volumi e per la morbidezza dei suoi atteggiamenti dei suoi toni e dei suoi colori l'arte del paesaggio moderno realizza per noi pittoricamente ciò che i greci ottennero con tanta perfezione plastica la musica nella quale ogni soggetto è assorbito dall'espressione e non può separarsene è un esempio complesso di quel che io voglio dire così come un fiore o un fanciullo sono gli esempi semplici ma il dolore è il tipo più alto nella vita e nell'arte dietro la gioia e il sorriso ci può essere un temperamento ruvido aspro e scaltro ma dietro il dolore non c'è che il dolore l'angoscia contrariamente al dispiacere non si maschera mai la verità in arte non consiste in una corrispondenza tra l'idea madre e l'esistenza accidentale essa non è la identità della forma con l'ombra o della forma riflessa dal cristallo con la forma stessa non è l'eco rinviata dall'anfratto ad una collina così come non è nella valle una sorgente d'acqua argentata che mostra la luna alla luna e narciso a narciso la verità in arte è l'unità ad una cosa con se stessa è l'esteriore come diretta emanazione dell'interiore è l'anima connaturata con la carne e il corpo con lo spirito per questa ragione non esiste nessuna verità che sia comparabile al dolore ci sono alcuni momenti in cui il dolore sembra divenire la verità unica le altre cose possono essere delle illusioni dell'occhio o del desiderio create per accecare l'uno e soddisfare l'altro ma è solo col dolore che si sono creati i mondi e alla nascita di un fanciullo o di una stella presiede il dolore ma di più venne il dolore una realtà intensa straordinaria ho detto ho detto di me stesso che ero in comunione simbolica con l'arte e con la cultura della mia età ebbene non c'è un solo infelice chiuso con me in questa galera miserabile che non si trovi in comunione simbolica col segreto stesso della vita perché il segreto della vita è di soffrire è questo che si nasconde in tutte le cose quando cominciamo a vivere quel che è dolce a noi sembra tanto dolce e quel che è amaro ci sembra tanto amaro che non rivolgiamo inevitabilmente tutti i nostri sforzi verso il piacere e non cerchiamo soltanto di nutrirci di miele per un mese o due ma non vogliamo altro alimento in tutta la nostra vita ignorando così che corriamo rischio d'affamare la nostra anima mi sovviene ad essere entrato una volta in questo argomento con una delle più belle figure che abbia mai conosciuto una donna di cui è indicibile la simpatia la nobile bontà verso di me prima e dopo la tragedia della mia prigionia essa mi ha realmente aiutato quantunque ella lo ignori a portare il fardello delle mie pene più di qualsiasi altra creatura al mondo e tutto ciò con il solo fatto della sua esistenza perché essa è quello che è un ideale e una forza influente ad un tempo una suggestione di ciò che si potrebbe divenire quanto un aiuto effettivo per divenirlo un'anima che comunica la sua dolcezza all'aria che si respira e fa sembrare il mondo dello spirito semplice e naturale come la limpidità del sole e del mare per lei la bellezza e il dolore camminano dandosi la mano e recano la stessa novella nell'occasione di cui parlavo mi ricordo d'averle detto che c'era in una sola strada butello di Londra abbastanza sofferenza per mostrare che Dio non ama l'uomo e che in qualunque luogo il dolore si rivelasse fosse pure quello di un fanciullo piangente in un piccolo giardino per una colpa non commessa la faccia intera della creazione ne era completamente sfigurata ebbene avevo del tutto torto e la me lo disse ma io non le credetti non ero nell'ordine d'idea nel quale si arriva ad una simile scoperta adesso constato che l'amore è la sola spiegazione possibile della somma straordinaria di dolore che esiste nel mondo non posso concepire nessun'altra spiegazione sono convinto che non ce n'è una diversa e se veramente il mondo è stato costruito col dolore le mani che lo hanno edificato sono quelle dell'amore perché l'anima dell'uomo per cui il mondo fu creato non poteva altrimenti raggiungere il limite della sua perfezione il piacere per un bel corpo ma il dolore per una bella anima quando dico che sono convinto di queste cose io parlo con troppo orgoglio da lontano simile a una perla perfetta si scorge la città di dio la vista ne è così meravigliosa e sembra che un fanciullo possa raggiungerla in un giorno d'estate ma per me e per coloro che sono simili a me è differente si può sì assimilarsi una cosa in un solo istante ma poi la si perde nelle lunghe ore che seguono interminabili con piedi di piombo è troppo difficile rimanere sulle cime su cui l'anima sa di innalzarsi noi pensiamo sotto la specie dell'eterno ma pure noi procediamo lentamente col tempo e il tempo come lentamente cammina per noi che siamo in prigione non occorre che io ne parli ancora e nemmeno della stanchezza e dello scoraggiamento che si insinuano dentro le celle o nella cella del nostro cuore con una così strana insistenza che bisogna per così dire lustrare e addornare la casa affinché si entrino come ospiti volgari o padroni crudeli dei quali si è per caso o per elezione lo schiavo benché ora i miei amici non lo credano è pur vero che per essi che vivono liberi nell'ozio e nelle comodità è più facile imparare lezioni di umiltà che per me per me che comincio la mia giornata mettendomi in ginocchio a lavare il pavimento della mia cella perché la vita della prigione con le sue privazioni e i suoi sacrifici innumerevoli spinge alla rivolta e il più terribile non è già che essa spezzi il cuore i cuori non sono fatti per essere infranti ma che lo trasformi in una pietra tali volte si sente che solo con una fronte di bronzo e delle labbra sprezzanti si può arrivare alla fine della giornata ma colui che si trova in stato di ribellione non può ricevere il dono della grazia per usare la frase che la chiesa ama con tanta ragione oserei dire perché nella vita come nell'arte lo stato di rivolta preclude le vie dell'anima e non lascia passare i soffi del cielo tuttavia seppur devo impararle in qualche luogo è qui che mi eserciterò nelle lezioni di umiltà e devo essere pieno di gioia e i miei piedi sono sulla buona via e il mio volto guarda verso la porta che è chiamata bella sebbene io debba cadere ancora tante volte nel fango e spesso disorientarmi in mezzo alla bruma questa vita nuova come la chiamo sovente per il mio amore di Dante non è a rigore una vita nuova ma semplicemente la continuazione per via di sviluppi e di evoluzioni della mia vita di prima quando ero ad Oxford l'ultimo anno una mattina in cui passeggiavamo per gli stretti viali gorgheggianti del Magdalen College mi ricordo di aver detto a un amico che io volevo gustare tutti i frutti del giardino del mondo e che stavo per mettere piede nella vita con questo desiderio chiuso nella profondità della mia anima è così infatti che vi entrai è così che io vissi il mio solo errore fu di limitarmi esclusivamente agli alberi di quel che mi parve il lato luminoso del giardino e di fuggire l'altra parte impaurito come ero delle zone d'ombra e della sua oscurità la non riuscita nel mondo la sventura la povertà il dolore la disperazione la sofferenza le lacrime stesse e le parole monche che sfuggono alle labbra in pena il rimorso che costringe a camminare sui rovi la coscienza che condanna il volontario umiliarsi che avvilisce la miseria che ricopre i suoi capelli di cenere l'angoscia che si lacera con un cilicio e mescola il fiele nel calice della sua bevanda di tutte queste cose insieme io ero spaventato e siccome ero risoluto a non sperimentarne mai nessuna fui poi costretto a gustarle ad una ad una a nutrirmene ad abbeverarmene a non avere altro nutrimento durante un'intera stagione neppure per un istante io ho rimorso ad aver vissuto per il piacere pianamente mi abbandonai adesso com'è necessario fare tutto quel che si fa non c'è volutà che io non conoscessi in una coppa di vino gettai la perla della mia anima discesi al suono dei flauti per il sentiero fiorito delle primavere mi cibai di miele ma non sarebbe stato buon consiglio continuare la medesima vita perché ciò sarebbe equivasso ad una limitazione occorreva procedere oltre anche l'altra metà del giardino aveva dei segreti per me certo tutto ciò è detto e preveduto nei miei libri una parte del principe felice un'altra nel giovinere specialmente nel passo nel quale il vescovo dice al fanciullo inginocchiato colui che ha creato il dolore non è più saggio di te è una frase che quando la scrissi mi parve veramente più di una semplice frase una gran parte di verità è dissimulata sotto l'accento fatale che simile a un filo di porpora serpeggia attraverso la trama di Dorian Gray nel critico considerato come artista il presagio si rivela in molte maniere nell'anima dell'uomo è manifesto in chiare lettere anche troppo facile a leggersi e non è testomonito uno dei ritornelli che ripetuti motivi rendono Salomè simile ad uno sparcio musicale e le danno l'unità organica ad una ballata inoltre è incarnato nel poema in prosa dell'uomo che col bronzo della statua del piacere effimero deve foggiare l'immagine del dolore eterno non poteva essere diversamente in ciascun momento della vita si è quel che si sta per essere oltre a ciò che si è già stati l'arte è simbolica perché tutto un simbolo è l'uomo se potrò conquistarla completamente questa vita nuova essa sarà la definitiva realizzazione della vita artistica in quanto la vita artistica è semplicemente lo sviluppo di se stesso umiltà per l'artista consiste nell'accettare con cuore franco tutte le esperienze come l'amore per l'artista è il puro senso della bellezza che rivela al mondo il suo corpo e la sua anima in Mario Lepicureo Walter Pater cerca nel senso profondo solenne e dolce della parola di riconciliare la vita artistica con quella della religione ma Mario quasi non è che uno spettatore uno spettatore ideale cui è concesso di contemplare lo spettacolo della vita con delle emozioni adeguate ciò che Walsford definisce lo scopo vero del poeta tuttavia uno spettatore un po' troppo preoccupato della delicata grazia del santuario del dolore che ha pur sotto gli occhi io vedo un vincolo molto più intimo ed immediato tra la vera vita di Cristo e la vera vita dell'artista e provo un grande piacere pensando che hai tempo prima ad essere dominato e legato al carro del dolore io avevo scritto nell'anima dell'uomo che colui il quale volesse condurre una vita simile a quella di Cristo dovrebbe essere interamente assolutamente se stesso e avevo preso come esempio non solo il pastore sulla montagna e il prigioniero nella sua cella ma sì anche il pittore per cui il mondo è una festa di colori e il poeta per quale l'universo intero è un canto vi rammento una volta che si discutevano un caffè di Parigi l'aver detto ad Andrea Gid la metafisica ha poco interesse reale per me e la morale nessuno ma tutto ciò che è uscito dalla bocca di Platone o di Cristo può essere trasportato immediatamente nella sfera dell'arte e trovarvi la propria espressione integrale non solo noi possiamo notare in Cristo quel vincolo intimo della personalità con la perfezione in cui consiste la vera differenza tra il movimento classico e il romantico nella vita ma è un fatto che la sua stessa natura era identica a quella dell'artista una immaginazione intensa come una fiamma egli ebbe nel campo dei rapporti umani quella tal simpatia immaginativa che nel dominio dell'arte forma il segreto unico della creazione comprese la lebra del lebroso la tenebra del cieco la crudele miseria di coloro che vivono non cercando altro che il piacere la strana povertà del ricco qualcuno mi ha scritto durante il periodo più acuto delle mie angusce caduto dal vostro piedestallo non siete più interessante quanto egli era lontano dicendo questo dal segreto di Gesù per adoperare un'espressione di Matteo Arnold l'uno e l'altro gli avrebbero potuto insegnare che ciò che succede ad un uomo succede ugualmente a voi se volete una massima da leggere dall'alba alla notte nelle ore di gioia nelle ore di tristezza incidete sulle pareti della vostra casa queste lettere che saranno dorate dal sole inargentate dalla luna tutto quel che capita a me stesso capiterà anche ad altri senza dubbio Cristo va collocato assieme con i poeti la sua concezione dell'umanità era una risultante diretta della sola immaginazione che può comprenderla egli considerò l'uomo come il panteista aveva considerato Dio fu il primo a concepire l'unità delle razze divise davanti che gli apparisse c'erano stati degli dèi e degli uomini e Cristo sentendo per mezzo della sua mistica simpatia che ciascuno di essi era incarnato in sé si denomina la seconda o il figlio di Dio o il figlio dell'uomo più di qualsiasi altro nella storia egli desta in noi quella facoltà del meraviglioso cui si rivolge sempre c'è ancora in me qualcosa di incredibile nell'idea di questo giovane artigiano galileo che s'immagina di poter portare sulle sue spalle il peso del mondo intero tutto quel che era già stato compiuto e sofferto i delitti di Nerone di Cesare Borgia di Alessandro VI di colui che fu imperatore di Roma e sacerdote del sole le torture di colore i cui nomi sono legioni e che riposano nei cimiteri le nazioni oppresse i fanciulli martiri delle officine i ladri carcerati i proscritti coloro che sono diventati muti nel servaggio e dei quali solamente Dio comprende il silenzio e tutto questo non era una semplice immaginazione ma un fatto vero compiuto in modo che ora tutti quelli che cercano di penetrare nella sua personalità quantunque non si curvino davanti ai suoi altari né si inginocchino innanzi ai suoi preti salvedono in qualche modo che la macchia del loro peccato è elevata vedanno la rivelazione della bellezza del loro soffrire dicevo che Cristo va messo assieme con i poeti è vero Shelley e Soffocle l'accompagnano ma tutta la sua vita intera è il più meraviglioso dei poemi quanto a pietà e terrore non c'è niente di simile nel ciclo complessivo della tragedia ellenica la purità del protagonista innalza tutto il piano della sua vita ad un'altezza d'arte romantica dove a causa dell'orrore sono eliminate le tribolazioni di Tebe e della schiatta dei Pelopidi ed essa mostra ancora quanto avesse torto Aristotile ad affermare nel suo trattato sul dramma che riuscirebbe insopportabile sopportare lo spettacolo di un personaggio irreprensibile nel dolore né in Eschilo né in Dante questi geni austeri della più accorata poesia né in Shakespeare il più umano di tutti i grandi artisti e nemmeno nell'insieme dei miti e delle leggende celtiche nei quali la bellezza del mondo si intravede sotto un velo di lacrime e in cui la vita di un uomo non è da più della vita di un fiore si può trovare qualcosa che per la semplice emozione unita alla sublimità dell'effetto tragico stia alla pari o soltanto s'approssimi all'ultimo atto della passione di Cristo la cena con i suoi discepoli da uno dei quali è già stato venduto per una somma di denaro l'angosciosa agonia dell'orto tranquillo illuminato dalla luna il falso amico che gli si avvicina per tradirlo con un bacio l'amico che credeva ancora in lui e sul quale egli come su una roccia granitica aveva sperato di poter costruire un rifugio per l'uomo che lo rinnega invece nell'ora in cui il gallo saluta l'aurora il suo isolamento assoluto la sua sottomissione la sua rassegnazione inoltre le scene nelle quali gran sacerdote dell'ortodossia gli lacera con furia le vesti e il magistrato civile dell'impero chiede dell'acqua sperando in vano di lavarsi quella macchia di sangue che dovrà contrassegnarlo come la rossa figura della storia la cerimonia dolorosa della corona di spine una delle cose più meravigliose nella cronaca dei tempi la crocefissione dell'innocente sotto gli occhi di sua madre e del discepolo che l'amava i soldati che si giocano ad adi gli abiti del martire la morte terribile con la quale gli ha dato al mondo il suo più eterno simbolo e poi la sepoltura finale nella tomba dell'uomo ricco il suo corpo fasciato di bende egiziane e profumato di aromi costosi come se fosse stato il figlio di un re quando si considera tutto ciò unicamente dal punto di vista dell'arte bisogna pure essere riconoscenti alla chiesa del fatto che il supremo rito della chiesa stessa consista nella rappresentazione della trasedia senza spargimento di sangue mistica rappresentazione della passione del signore per mezzo di dialoghi di costumi e di gesti ed è per me una ragione di piacere e di rispetto commosso di pensare che il coro greco altrimenti perduto per l'arte si è sopravvissuto infine nel chierico che risponde al prete celebratore della messa è però la vita di cristo a tal punto dolore e bellezza si possono fondere nella loro manifestazione piena di significato è realmente un edilio quantunque essa termini col velario del tempo che si lacera con le tenebre che si addensano sulla faccia della terra e con la pietra trascinata fino all'ingresso della sepoltura si si pensa sempre a cristo come ad un fidanzato in mezzo ai suoi compagni ed altronde è proprio così che gli si compiace di chiamarsi in alcuni luoghi come ad un pastore che trascorra di valle in valle col suo greggio alla ricerca di verdi prati e di ruscelli d'argento come ad un cantore che provi con la sua musica di costruire le mura della città di dio o come a un amante le cui capacità d'amore sono troppo vaste per il nostro piccolo mondo i suoi miracoli mi sembrano squisiti come il primo soffio della primavera ed altrettanto naturali ma ho alcuna difficoltà a credere che il fascino della sua persona doveva essere tale da poter dare la pace alle anime tormentate con la sua sola presenza e che coloro i quali gli toccavano la tunica e le mani dimenticavano le proprie sofferenze e che quando egli passava sulla grande via della vita uomini che non avevano mai visto nulla del mistero di vivere ad un tratto si sentivano aprire gli occhi ed altri rimasti sempre sordi a tutte le voci tranne che a quello della volutà udivano per la prima volta la voce dell'amore e la trovavano così musicale come la rira da pollo ne ho difficoltà a credere che le malvagie passioni si involano al suo avvicinarsi e gli uomini le esistenze dei quali erano sempre state meschine simili alla morte balzavano fuori dalla tomba per così dire appena egli li chiamava oppure quando egli predicava sulla montagna la moltitudine obbliava la fame la sete e le cure del mondo e quando egli conversava con gli amici e i discepoli durante la cena il cibo grossolano sembrava delicato e l'acqua assumeva il gusto del vino e tutta la casa sempiva del profumo dolce del nardo nella vita di Gesù Cristo questo delizioso quinto Vangelo l'Evangelo San Tommaso si potrebbe chiamarlo Renan dice in qualche passo che il grande segreto di Cristo fu quello di farsi amare dopo la morte quanto era stato amato in vita certamente se il suo posto è tra i poeti egli è il principe degli amanti egli vide che l'amore è il principio primordiale del mondo il segreto che cercavano i saggi ed è soltanto per mezzo dell'amore che ci si può accostare all'ebroso e al Signore ma oltre a tutto ciò Cristo è il supremo individualista l'umiltà in quanto accettazione artistica di ogni esperienza è sempre un modo di manifestarsi è l'anima dell'uomo che Cristo cerca di raggiungere senza tregua egli la chiama Regno di Dio e la trova in ciascuno di noi la compara a delle piccole cose a una sottile semenza a un pugno di lievito ad una perla e non si afferra alla realtà della propria anima se non liberandoci di tutte le passioni estrane di ogni cultura sovrapposta di ogni possesso acquisito se esso buono o cattivo io mi ostinai contro tutto con tenacia e con ribellione sino che non restasse in me più che una sola cosa al mondo avevo perduto il mio nome la mia posizione la mia felicità la mia libertà la mia ricchezza ero povero e prigioniero ma mi rimanevano ancora i miei figli e ad un tratto anch'essi mi furono tolti fu un colpo così tremendo che non seppi più cosa fare mi gettai in ginocchio curvai la testa e piansi esclamando il corpo del Signore è come quello di un fanciullo io non sono più degno né dell'uno né dell'altro ed ecco in questo istante mi parve di salvarmi vedi allora che la sola cosa per me era di accettare tutto da quel momento in poi per quanto ciò paia curioso io fui più felice si è che io avevo toccato la mia anima nella sua essenza suprema in molte maniere me l'ero inimicata ma essa mi attendeva ancora come un amico quando si entra in comunione con l'anima si diventa puri come fanciulli Cristo l'ha detto è veramente tragico che così poche persone riescano a possedere la loro anima prima di morire nulla è più raro in un uomo dice Emerson di un'azione che sia proprio sua è assolutamente vero la maggior parte degli esseri sono degli altri esseri i loro pensieri sono l'opinione di qualcun altro le loro esistenze è una parodia le loro passioni è un eco di riflesso Cristo non fu soltanto il supremo individualista ma anche il primo degli individualisti della storia si è tentato di considerarlo come uno dei tanti filantropi che l'hanno pure accomunato agli altruisti come un ignorante e un sentimentale ma non fu realmente né una cosa né l'altra certo egli ha il senso della pietà per i poveri per coloro che sono relegati nelle prigioni per gli umili per i miserabili ma egli ha molta più comprensione per i ricchi per gli edonisti per coloro che sacrificano la loro povertà e divengono gli schiavi delle cose per quelli che portano abiti preziosi e abitano in palazzi regali le ricchezze e le volutà a lui sembrano in vero delle tragedie più grandi che la penuria e il dolore quanto all'altruismo poi chi sapeva meglio di lui che non è la volontà ma bensì la vocazione quella che ci spinge a compiere il bene e che non si potrebbero cogliere dei grappoli su dei roveti né dei fichi sui cardi vivere per gli altri come scopo cosciente e definito non era la base della sua fede quando gli dice perdonate ai vostri nemici non afferma questo per amor del nemico ma per amor di se stesso perché l'amore è più bello dell'odio consigliando al giovane ricco va e vendi tutto ciò che possiedi e donalo ai poveri non è ai poveri che Cristo pensa ma all'anima del giovane l'anima che era rovinata dalla ricchezza nella visione della vita egli è d'accordo con l'artista il quale sa che per l'inevitabile legge del perfetto sviluppo di se stesso il poeta deve cantare lo scultore pensare nel bronzo e il pittore fare del mondo lo specchio delle proprie emozioni appunto come il biancospino deve sbocciare in primavera il grano tintersi d'oro nel giugno e la luna nei suoi puntuali viaggi deve cambiarsi di scudo in falce e di falce in iscudo ma mentre Cristo non ha mai detto agli uomini vivete per gli altri egli ha mostrato però che non c'è nessuna differenza tra la nostra e l'altrui vita con questo mezzo egli ha dato all'uomo una personalità estesissima e titanica dopo la sua apparizione la storia di ogni individuo particolare si è trasformata o può trasformarsi nella storia stessa del mondo senza dubbio anche la cultura ha intensificato la personalità dell'uomo l'arte ci ha dato degli spiriti innumerevoli come miriadi coloro che hanno temperamento artistico seguono Dante nell'esilio e imparano come sa di sale lo pane altrui e come è duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale e si acquistano per un momento la serenità e la calma di Goethe e tuttavia non ignorano quel che Baudelaire ha gridato a Dio o Signore dammi la forza e il coraggio di contemplare il mio corpo e il mio cuore senza vergogna per l'artista l'espressione è il solo aspetto secondo il quale gli possa concepire la vita per lui ciò che è muto è morto ma per Cristo invece non era così con un'immaginazione meravigliosa e vasta che talvolta riempie di spavento egli assunse per regno il mondo intero dell'immobilità il mondo senza voce del dolore e ne divenne l'interprete scelse come suoi fratelli coloro che sono muti sotto il selvaggio e il silenzio dei quali non ha inteso altro che da Dio egli volle divenire l'occhio dei ciechi l'orecchio dei sordi e un grido sulle labbra di coloro che avevano la lingua recisa il suo desiderio era d'essere una tromba per le miria di duomini che non avevano mai potuto esprimersi una tromba con la quale egli lancierebbe il loro anelito verso il cielo con la natura artistica di un essere per il quale sofferenza e dolore siano mezzi attraverso cui giungere alla realtà della sua concezione del bello egli sentì che un'idea non ha valore se non quando si incarna se non quando se ne forma un'immagine che fece di se stesso l'immagine dell'uomo del dolore ed è appunto con questa figura che egli ha affascinato e dominato l'arte come nessuna divinità greca era riuscita a fare mai perché gli dei dell'Ellade nonostante il bianco e il rosio delle loro agili membre non erano in realtà ciò che mostravano d'essere la fronte ben tornita di Apollo era simile al disco del sole che sorge all'aurora dietro una collina e i suoi piedi erano come i soffi dell'abrezza del mattino ma egli era stato crudele contro Marsia e aveva rapito a Niobe i suoi figli nell'egida d'acciaio degli occhi di Minerva non c'era mai stata pietà per l'acne il fasto e i pavoni di Giunone erano tutto ciò che esisteva di veramente nobile in lei e il padre degli dei stesso aveva mostrato troppa tenerezza per le figlie dei mortali le due figure più profondamente suggestive della mitologia greca furono per la religione Demetra bea della terra che non era ammessa nell'Olimpo e per l'arte Dionisos figlio di una donna effimera che morì nel darlo alla luce eppure la vita stessa nella sua più modesta e più umida sfera produsse una meraviglia più ammirevole che la madre di Proserpina o il figlio di Semele dalla bottega del Falegname di Nazareth sorse una personalità infinitamente più grande di tutte quelle create dalla leggenda e del mito a rivelare al mondo il senso mistico del vino e delle reali bellezze del giglio nella valle come nessuno aveva fatto ancora né sul citerone né ad Enna il canto di Isaia e gli è disprezzato e l'ultimo degli uomini un uomo di colore che conosce l'angoscia e noi gli abbiamo nascosta la nostra faccia gli era parso una profezia e la profezia fu compiuta nella sua persona ogni opera d'arte che è creata è il compimento di una profezia perché ciascuna opera d'arte è la conversione di un'idea in una immagine così pure ogni creatura umana deve essere il compimento di una profezia perché ciascuna creatura umana dovrebbe essere la realizzazione di qualche ideale sia nello spirito di Dio che nello spirito dell'uomo Cristo trovò il tipo e lo denineò talché il sogno di un poeta virgiliano a Gerusalemme o a Babilonia nel lungo cammino dei secoli si incarnò in colui che il mondo attendeva per me una delle cose più dolorose della storia si è che la vera rinascita di Cristo che produsse la cattedrale di Chartres il ciclo delle leggende di Artù la vita di San Francesco d'Assisi l'arte di Giotto e la divina commedia di Dante non abbia avuto la libertà di svilupparsi secondo le proprie linee interne ma invece sia stata interrotta e violentata dalla fredda rinascita classica che ci ha dato gli affreschi di Raffaello l'architettura di Palladio la tragedia francese convenzionale la cattedrale di San Paolo la poesia di Pope e tutto ciò insomma che è creato dal di fuori secondo regole morte che non emana dall'intimo di un potente soffio ispiratore ma dovunque si verifica un movimento romantico in arte là in un modo o nell'altro si trova Cristo o l'anima di Cristo egli è in Romeo e Giulietta nel racconto d'inverno nella poesia provenzale nella ballata del vecchio marinaio nella Belle danse a Merci e nella ballata della carità di Chatterton dobbiamo all'anima di Cristo le cose ai generi più diversi i miserabili di Hugo i fiori del mare di Baudelaire la nota pietosa dei romanzi russi Verlaine e i suoi poemi le vetrate di tapezzerie e i lavori quattrocenteschi di Bun John e di William Morris le appartengono non meno che il campanile di Giotto l'ancillotto e Ginevra Tonhoiser e i marmi violenti di Michelangelo l'architettura gotica l'amore per i fanciulli e l'amore per i fiori a queste due ultime cose veramente l'arte classica non accorda che poco posto appena quel tanto che basta per farli crescere e giocare eppure dal dodicesimo secolo ai giorni nostri essi non hanno mai cessato di comparire nell'arte in attitudini varie e in età diverse a un tratto e capricciosamente sorgendo appunto come i fanciulli e i fiori la primavera dà sempre l'idea che i fiori si siano nascosti e che il compaiano al sole per la paura che gli uomini si stanchino di cercarli e vi rinuncino e la vita di un fanciullo non è altro che un giorno d'aprile con delle piogge e delle zone di sole per i narcisi ora è questo carattere immaginativo della natura di Cristo che lo rende il centro palpitante dello spirito romantico le strane figurazioni del poema drammatico e della ballata sono create dalla fantasia di un altro ma Gesù di Nazareth c'è interamente creato per proprio conto il canto di Isaia in vero aveva a che fare con la venuta di Cristo tanto quanto il gorgheggio dell'usignolo con l'alzarsi della luna nulla di più e nulla di meno e gli fu una negazione come pure l'affermazione della profezia per ogni speranza che realizzava un'altra ne distruggeva in ogni bellezza dice Bacone c'è qualche stranezza di proporzione e in coloro che come lui sono delle forze dinamiche Cristo dice che sono come il vento che soffia dove gli pare e nessuno può dire né donde venga né dove vada il suo ascendente è così grande sugli artisti egli ha tutti i colori della vita il mistero la stranezza il patetico la suggestione l'estasi e l'amore si rivolge allo spirito del miracolo e crea quel tale stato d'animo solo nel quale può essere compreso è per me una gioia ora il considerare che se egli è tutta immaginazione il mondo stesso è una identica sostanza ho detto nel l'orient gray che i grandi delitti del mondo accadono nell'intimo del cervello ma non è pure nel cervello che tutto accade adesso sappiamo che noi non vediamo con gli occhi né udiamo con le orecchie essi non sono che dei canali per trasmettere con più o meno esattezza le impressioni dei sensi è dentro il cervello che il papavero è rosso e la mela odora e la lodola canta da qualche tempo io studio con cura e quattro poemi in prosa che riguardano la figura di cristo per natale sono riuscito a procurarmi un testamento greco ed ogni mattina dopo aver spazzato la mia cella e forbito i miei utensili leggo un passo dei vangeli una dozzina di versetti presi a caso non importa dove è una deliziosa maniera di cominciare la giornata ciascuno anche vivendo una vita turbinosa disordinata dovrebbe fare così ripetizioni interminabili ad ogni proposito e fuori scopo ci hanno sciupato la freschezza l'ingenuità la grazia semplice e romantica dei vangeli li sentiamo leggere esitare troppo spesso e troppo male ed ogni insistenza di questo genere è antispirituale quando si torna al testo greco pare di entrare in una aiuola di gigli uscendo da una casa angusta ed oscura il piacere raddoppiato per me dal pensiero che è assai probabile che noi adoperiamo le medesime frasi e psissima verba usate da Cristo si ritenne per certo a lungo che egli si è espressa in aramaico anche Renan lo credeva ma ora sappiamo che gli abitanti della Galilea come gli orlandesi dei nostri giorni erano bilingui e il greco era il linguaggio ordinario che serviva per le relazioni quotidiane da un capo all'altro della Palestina e veramente da un punto all'altro di tutto il mondo orientale ero spiacente di non poter conoscere le parole di Cristo se non attraverso la traduzione di una traduzione sì è per me una delizia pensare che almeno per la semplice conversazione Carmide avrebbe potuto ascoltarle e Socrate parlare con lui e Platone comprenderlo che gli pronunciò esattamente io sono buon pastore che quando pensava ai gigli del campo i quali non lavorano non filano egli si espresse precisamente così tutto è finito la mia vita è terminata ha toccato il vertice della sua perfezione fu proprio quello che ci riporta San Giovanni e nulla di più leggendo i Vangeli specialmente il quarto quello di San Giovanni o del Gnostico chiunque sia colui che assunse il suo nome e il suo abito io vedo di continuo che l'immaginazione è messa innanzi come la base di ogni vita spirituale e materiale e inoltre per Cristo l'immaginazione era una semplice forma dell'amore e l'amore era sovrano nel senso più esteso del termine circa sei settimane fa il medico mi accordò il permesso di mangiare del pane bianco invece del ruvido pane nero o bigio del regime ordinario è una vera ghiottoneria parla strano che del pane secco possa essere una ghiottoneria per me lo è a tal punto che alla fine di ciascun pasto io mangio accuratamente le briciole rimaste sul mio piatto di metallo cadute sulla grossa salvietta che ci serve di tovaglia per non sporcare la tavola e non lo faccio per fame il vito che mi danno è sufficiente ma solo per non perdere nulla di ciò che mi è dato è in questo modo che bisogna considerare l'amore Cristo come tutte le figure affascinanti aveva il potere non soltanto di dire lui stesso delle cose belle ma anche di farsi dire delle cose belle dagli altri e a me piace la storia che ci racconta San Marco di una donna greca la quale dicendole Cristo per mettere alla prova la sua fede di non poterle dare il pane dei figli di Israele replicò che i piccoli cani accucciati sotto la tavola si nutrono delle briciole che i bimbi fanno cadere la maggior parte degli uomini vivono per l'amore e per l'ammirazione ma invece è per mezzo dell'ammirazione e dell'amore che noi dovremmo vivere se alcuno ci mostra dell'amore noi dovremmo riconoscere che ne siamo perfettamente indegni nessuno è degno ad essere amato il fatto che Dio ama l'uomo si prova che nell'ordine divino delle cose ideali è stabilito che un eterno amore sarà dato a chi ne è eternamente indegno ovvero se questa frase sembra troppo amare diciamo che tutti gli uomini sono degni d'amore tranne coloro che possono esserlo l'amore è un sacramento che bisognerebbe accogliere in ginocchio e domine non su un dignus dovrebbe essere la frase di tutti coloro che lo ricevono sulle loro labbra e nel loro cuore se io scriverò ancora nel senso di creare un'opera d'arte due sono i soggetti soprattutto sui quali e per mezzo dei quali voglio esprimermi uno è Cristo come precursore dell'atteggiamento romantico della vita l'altro la vita artistica considerata nei suoi rapporti con la condotta umana il primo è senza alcun dubbio assai seducente perché io vedo in Cristo non solo il principio essenziale del supremo tipo romantico ma anche tutte le contingenze e le stesse perversità del temperamento romantico egli fu il primo a dire agli uomini di vivere con me i fiori e ha fissato sempre la frase Cristo prese i fanciulli come tipo e modello per le aspirazioni umane li propose come esempio ai loro genitori cosa che io ho sempre pensato se è vero che si deve giovarsi di ciò che è perfetto Dante descrive l'anima dell'uomo come proveniente da Dio che piangendo e ridendo pargolezza e anche Cristo aveva veduto che l'anima di ciascuna di noi dovrebbe essere a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargolezza sentì che la vita è mutevole fluida attiva e che per metterle di stereotiparsi in una forma qualsiasi significa farla morire Cristo disse che gli uomini non devono preoccuparsi eccessivamente dei loro interessi materiali e comuni che solo il liberarsi dalle faccende pratiche è una cosa importante gli uccelli non si affannano per interesse di sorta perché l'uomo dunque se ne crucia è delizioso quando afferma non curatevi del domani l'anima non val più che la carne e il corpo più della veste un greco avrebbe potuto usare quest'ultima frase essa è piena di sentimento greco ma solo Cristo poteva enumerarle tutte e due e riassumere così perfettamente la vita la sua morale è tutta di simpatia appunto come deve essere la morale se non avesse mai detto altro che queste parole i suoi peccati le sono perdonati per chi ha molto amato metterebbe il conto di morire per averle dette la sua giustizia è una giustizia tutta poetica appunto come la giustizia deve essere il malfattore andrà in paradiso perché è stato infelice io non trovo una ragione migliore per mandarvelo gli artigiani che non hanno lavorato che un'ora sola nella vigna e durante la fresca brezza della sera riscuotono lo stesso salario di coloro che hanno sudato tutto il giorno in mezzo ai tralci sotto la sferza del sole probabilmente nessuno meritava di essere pagato o forse gli artigiani erano differenti Cristo non aveva nessun trasporto per i sistemi meccanici privi d'anima che trattano gli uomini come se fossero degli oggetti e trattano tutto il mondo alla stessa stregua per lui non esistevano leggi c'erano semplicemente delle eccezioni come se ogni uomo e ogni cosa non trovassero alcun simile ciò che forma il tono stesso dell'arte romantica era per Cristo il vero fondamento della vita naturale non se ne scorgeva altro e quando gli fu condotta innanzi una donna sorpresa infraglante all'ulterio e gli fu indicata la sentenza della legge e gli venne chiesto ciò che occorreva fare egli continuò a scrivere col suo dito sulla sabbia come se non avesse udito e quando lo si esortò a rispondere alzò la testa e disse chi ti voglia senza peccato scagli la prima pietra mette conto di vivere per pronunciare una simile frase come tutte le nature poetiche egli amava gli ignoranti ben egli sapeva che nell'anima di un essere ignorante c'è sempre posto per una grande idea ma non sapeva sopportare gli stupidi specie coloro che sono resitali dall'educazione gli uomini pieni d'opinioni delle quali non ne capiscono neppure una tipo particolarmente moderno messo in luce da Cristo quando lo dipinge come il tipo di colui che possiede la chiave della conoscenza ma che è incapace di servirsene per conto proprio impedisce anche agli altri di usarla quantunque essa possa aprire la porta del regno del cielo contro i filistei egli condusse la sua più fiera campagna è una guerra che devono combattere tutti i figli della luce il filisteo era la figura caratteristica dell'età e dell'ambiente nel quale Cristo viveva con la loro opaca rispettabilità e la loro noiosa ortodossia con la loro esclusiva preoccupazione del lato volgarmente materialistico della vita e la loro prosopopea di se stessi e della propria importanza i giudai al tempo di Cristo erano l'immagine esatta del filisteismo britannico del nostro tempo Cristo si beffò dei sepolcri imbiancati e la sua frase rimase eterna trattò il successo materiale come una cosa da disprezzarsi assolutamente non voleva vedere in esso nulla di importante considerava la ricchezza come un ingombro per l'uomo non voleva affatto sentir parlare di sacrificio della vita a un qualunque sistema di pensiero o di morale mostrò che le forme e le cerimonie erano fatte per l'uomo e non già l'uomo per le forme le convenzioni e le cerimonie prese l'idolatria del sabato a bersaglio delle sue sfide le filantropie a freddo le ostentate carità pubbliche i massacranti formalismi così cari allo spirito dei mediocri tutto ciò denunciò con uno sdegno implacabile per noi l'ortodossia è semplicemente la quiescenza facile e idiota ma per essi e nelle loro mani era una tirannide terribile paralizzatrice Cristo la ripudiò sostenne e provò che soltanto lo spirito contiene un valore quasi con maligno piacere dimostrava loro che malgrado lo studio continuo della legge e dei profeti essi non avevano in realtà la più piccola idea di quel che le une e gli altri significassero al contrario della loro suddivisione di ogni giornata in una serie fissa di pratiche prescritte come un tritume di menta e di ruta egli predicò l'enorme valore di vivere per l'ora presente coloro che gli salvò dai peccati furono salvi soltanto per merito di alcuni momenti belli nella loro vita nel veder Cristo Maria Maddalena spezza il ricco vaso dall'abastro donato da uno dei suoi amanti e sparse gli aromi sui piedi stanchi e polverosi del maestro ed è appunto in forza di questo momento unico che la è posta per sempre con ruta e beatrice in mezzo alle ghirlande di rose bianche del paradiso tutto ciò che Cristo ci insegna con piccoli moniti è che ogni istante della nostra vita deve essere bello che l'anima ha da essere pronta per l'arrivo dello sposo sempre attenta alla voce dell'amante poiché il filisteismo è semplicemente quel lato dell'indole dell'uomo che non si illumina alla fiamma dell'immaginazione Cristo vede tutte le più splendide facoltà della vita come delle attitudini luminose la stessa immaginazione è la luce del mondo il mondo è creato da lei e tuttavia non la comprende il che si spiega poiché l'immaginazione è un manifestarsi dell'amore ed è l'amore e la facoltà d'amare che distinguono tra loro gli esseri umani se non che viene le sue relazioni con i peccatori che Cristo è soprattutto romantico nel senso più reale della parola e il mondo aveva sempre venerato i santi poiché sono i più prossimi alla perfezione di Dio Cristo invece guidato da un istinto divino sembra che abbia sempre amato il peccatore come il più prossimo alla perfezione dell'uomo il suo desiderio originario non era già quello di redimere gli uomini come non era di lenire il dolore trasformare un ladro interessante in un onestuomo noioso non era proprio il suo scopo egli avrebbe avuto una ben misera idea della società per la redenzione dei carcerati ed altre iniziative moderne del medesimo genere la conversione di un pubblicano in un fariseo non gli sarebbe parsa un atto molto degno di gloria ma egli considerava il peccato e la sofferenza in una maniera che il mondo non ha per anco compreso come due cose belle sante come due forme di perfezione questa sembra un'idea pericolosa ed è pericolosa di fatti come tutte le grandi idee ma non c'è nessun dubbio che era veramente il credo di Cristo ed io non esito a ritenerla una verità straordinaria certo occorre che il peccatore si penta ma perché per la semplice ragione che altrimenti non potrebbe rendersi conto di ciò che ha fatto l'istante del pentimento è quello stesso dell'iniziazione e anche di più è il mezzo col quale si muta il proprio passato i greci non reputavano possibile tutto ciò spesso affermano nei loro aforismi ignomici nemmeno gli dèi potrebbero mutare il loro passato ebbene Cristo ha mostrato che il più comune dei peccatori può farlo e che anzi è l'unica cosa che può fare se ne fosse stato richiesto Cristo ne sono sicuro avrebbe risposto che nell'istante in cui il figlio prodigo cadde in ginocchio davanti al padre e ruppe in singhiozzi egli trasformò le sue orge le sue umiliazioni e la sua degradazione in altrettanti momenti belli e santi della propria vita è difficile lo so per la maggior parte degli uomini rafferrare un'idea siffatta oso dire che bisogna andare in prigione per poterla comprendere e se così è vale veramente la pena di vivere in una galera c'è qualche cosa di così unico in Cristo certo come ci sono delle false aurore prima dell'aurora vera e dei giorni d'inverno incredibilmente dolci di sole che ingannano il croco e gli fanno sciupare l'oro anzitempo o spingono il troppo ingenuo uccello al canto per invitare la sua compagna a costruire un nido su delle flasche ignude così ci furono dei cristiani avanti Cristo e siamo nei loro riconoscenti ma il male si è che non ce ne furono dopo di lui faccio un'eccezione San Francesco d'Assisi ma Dio gli aveva dato sin dalla nascita un'anima di poeta ed egli stesso nella sua prima giovinezza aveva tolto in mistiche nozze la sua sposa povertà con l'anima di un poeta il corpo di un mendicante San Francesco non percorre troppo difficilmente la via della perfezione egli comprese Cristo e così divenne simile a lui non abbiamo bisogno del liber conformitatum per apprendere che la vita di San Francesco è la vera imitazione di Cristo poema che comparato al liber non è che una prosa sicuramente il fascino di Cristo si è che egli è in tutto e per tutto simile ad un'opera d'arte non si insegna nulla in realtà ma per il solo fatto di essere condotti alla sua presenza si diventa qualcosa di più e ciascuno di noi è predestinato a questa presenza almeno una volta nella sua vita ogni uomo cammina con Cristo sino ad Emmaus ora per ciò che riguarda l'altro soggetto vale a dire il rapporto della vita artistica con la condotta umana mi sembrerà certamente strano che io l'abbia scelto la gente si mostra a dito il carcere di Reading e dice eccola eccola che cosa conduce la vita artistica che monta essa potrebbe menare anche a dei luoghi peggiori di uomini meccanicizzati per i quali la vita è una continua speculazione dipende da uno scrupoloso calcolo di mezzi e di sistemi essi lo sanno sempre dove vogliono arrivare e ci arrivano si mettono in cammino col desiderio ideale d'essere sagrestani della loro parrocchia e qualunque sia la sfera in cui agiscono finiscono sempre con l'essere sagrestani della loro parrocchia e nulla di più un individuo che brama di divenire qualcosa di diverso da se stesso cioè d'essere membro del parlamento o pizzicagnolo che si arricchisce o avvocato famoso o giudice o qualche cos'altro di ugualmente noioso riesce con ogni probabilità a divenire a ciò che desidera ed è così che trova il suo castigo coloro che vogliono una maschera sono condannati a portarla per sempre ma con le energie dinamiche della vita e con coloro nei quali queste forze si incarnano tutto è diverso quelli che desiderano soltanto di essere se stessi non sanno mai dove vanno non possono saperlo in un senso del termine è necessario e naturale il conoscere se stessi come disse l'oracolo ellenico questo è il primo passo della conoscenza ma riconoscere che l'anima di un uomo è inconoscibile ecco l'ultimo risultato della saggezza il mistero finale risiede in noi stessi dopo aver pesato il calore e la massa del sole misurate le fasi della luna disegnate le mappe dei sette cieli stella per stella è ancora l'io in sé che rimane chi può calcolare l'orbita della propria anima quando il figlio si pose in cammino per rintracciare gli asini di suo padre egli non sapeva che l'uomo di dio lo aspettava con la cresima della consacrazione e che la sua anima era già tra quelle di un re spero di vivere abbastanza per produrre un'opera di tal carattere che possa dire alla fine dei miei giorni sì ecco che cosa può condurre un uomo una vita artistica due delle vite più perfette che io mi conosca sono quelle di Verlaine e del principe Kropotkin entrambi hanno passato degli anni in prigione il primo è l'unico poeta cristiano dopo Dante l'altro possiede una bella anima di Cristo candido come ci si attende che debbano venirne dalla Russia durante gli ultimi sette e otto mesi nonostante una serie di crucci che mi sono venuti dal mondo esterno quali senza interruzione mi sono messo in contatto immediato con uno spirito nuovo che agisce in questo carcere per mezzo degli uomini e delle cose e che mi ha soccorso in modo indicibile così che io che per tutto il primo anno della mia reclusione non ho fatto che torcermi le mani ben mi ricordo e gridare con una impotente disperazione quale tracollo quale spaventevole fine adesso invece tento di dirmi e qualche volta quando non mi torturo da me stesso realmente e sinceramente mi dico quale nuovo principio quale meraviglioso principio può darsi che sia così in realtà può darsi che la cosa divenga così e allora quanto io dovrei a questa personalità nuova che trasforma l'esistenza di ognuno anche qua dentro vi sarà possibile comprenderlo quando vi dirò che se fossi stato liberato nel maggio scorso come desideravo avrei lasciato questo luogo con l'anima piena di amaro odio contro di esso e contro i carcerieri ma questo sentimento cattivo avrebbe poi avvenenato la mia vita ho subito un anno di reclusione di più ma un senso vivo d'umanità eppur stato in carcere con tutti noi ed ora quando me ne andrò io mi rammenterò sempre le grandi premure che quasi tutti qui hanno avuto per me e il giorno della mia liberazione rivolgerò un grazie a non pochi e domanderò loro in ricambio che si ricordino qualche volta di me i sistemi della prigione sono assolutamente interamente crudeli molto darei per poterli cangiare ho intenzione di fare questo tentativo ma quantunque un sistema sia così difettoso lo spirito d'umanità che è poi lo spirito d'amore lo spirito di Cristo che non si trova dentro le chiese riesce almeno a farlo sopportare senza troppa amarezza se non proprio a mutarlo radicalmente so anche che fuori mi aspettano innumerevoli e deliziose cose da quelle che San Francesco chiama fratevento e sorella piova alle vetrine dei negozi ai tramonti delle grandi città se facessi un elenco di tutto ciò che ancora mi rimane non so dove mi fermerei perché veramente Dio ha creato il mondo tanto per me quanto per gli altri forse io uscirò di qui in possesso di qualche cosa che prima non avevo non ho bisogno di dirvi che per me le riforme della morale sono insignificanti e volgari come quelle della teologia ma mentre la risoluzione d'essere un uomo migliore è un atto sperimentale ed ipocrita essere divenuto invece più profondamente uomo è il privilegio di coloro che hanno sofferto ed io credo di esserlo divenuto se quando sarò libero uno dei miei amici darà una festa senza invitarmi io non troverò nulla a ridire posso essere perfettamente felice solo con me stesso con la libertà i fiori i libri e la luna chi non sarebbe felice d'altra parte le feste non sono più fatte per me ne ho date troppe perché debba curarmene ancora questo lato della vita è finito per me assai fortunatamente oso dire ma se quando sarò libero uno dei miei amici avesse un dolore e mi impedisse di prendervi parte ne risentirei un'amarezza infinita se gli mi sbarrasse le porte della casa in lutto io ritornerei chissà quante volte a supplicarlo d'esservi ammesso pur di avere la mia parte di ciò di cui ho diritto se gli mi reputasse incapace o indegno di piangere con lui ne proverei l'umiliazione più sanguinosa considerai la sua ripulsa come la maniera più terribile di avvilirmi ho un diritto di partecipare al dolore e colui che può contemplare la bellezza del mondo sentendo neanche la sofferenza comprendendo entrambe le meraviglie colui è in contatto con le cose divine e si è avvicinato al segreto di Dio per quanto è possibile già va a credere che nella mia arte non meno che nella mia vita vi sarà una nota più profonda ancora una nota di più grande unità di passione ed impulso è l'intensità e non la latitudine lo scopo vero dell'arte moderna nell'arte non dobbiamo più occuparsi del tipo ma dell'eccezione io non posso dare alle mie sofferenze nessuna delle forme reali che assunsero l'arte comincia là dove l'imitazione finisce ma qualcosa penetrerà nella mia opera una pienezza di memoria verbale di cadenze più ricche di effetti più curiosi di un ordine architettonico più semplice per lo meno di un'altra qualità estetica quando Marsia fu strappato dalla vagina delle sue membra dalla vagina delle membra sue per usare la frase di Dante di una concisione terribile addirittura tacitiana egli non ebbe più nessun canto sulle sue labbra dicono i greci Apollo aveva vinto la lira aveva vinto la zampogna ma forse i greci si sono ingannati io odo il grido di Marsia in gran parte dell'arte moderna è amaro in Baudelaire dolce e lamentevole in Lamartin mistico in Guerlain si trova nelle catarsi lente della musica di Chopin e nelle donne di Bargion anche Matteo Arnold ce lo fa udire sebbene egli ci parli nel suo canto di Callicle del trionfo della dolce del suo adente lira e della famosa ultima vittoria con una così bella terza nota di lirismo nel mormorio irrequieto di dubbio e di affanno che pervade i suoi versi né Goethe né Wordsworth giovarono in alcun modo a Matteo Arnold per quanto egli li abbia seguiti di volta in volta e quando vuol dolersi del fatto di tirsi o celebrare lo scolaro Gipsy gli occorre pur prendere la zampogna per esprimere il suo tormento ma insomma sia o non sia stato muto il fauno di Frigia io non posso essere silenzioso l'espressione mi è tanto necessaria quanto le foglie e i fiori lo sono per i rami neri degli alberi che si intravedono al di là delle mura della prigione e che senza posa si agitano nel vento tra la mia arte e il mondo c'è ora un vasto gorgo ma tra l'arte e me stesso non ce n'è alcuno almeno io spero a ciascuno di noi la sua sorte il mio destino è stato di pubblica infamia di lunga prigionia di miseria di rovina di sventura di fiele ma io non ne sono degno in ogni caso non ne sono ancora degno mi sovviene d'aver detto spesso che avrei potuto sopportare una tragedia reale purché la mi si presentasse con un mantello di porpora e con la maschera di un nobile dolore ma ciò che vedi orribile nella vita moderna si è che essa riveste la tragedia coi censi della commedia in modo che le più grandi realtà sembrano banali o glottesche o prive di stile questa è la perfetta verità intorno all'esistenza moderna si dice che tutti i martiri sembrano meschini a chi li osserva il secolo decimo nono non fa eccezione alla regola tutto nella mia tragedia è stato orrido ripugnante privo di stile la nostra casacca stessa ci rende grotteschi noi siamo i buffoni del dolore siamo i pagliacci dal cuore spezzato siamo designati in modo speciale per essere gli zimbelli dei belli spiriti il 13 novembre 1895 fui condotto da Londra a qua quel giorno dalle due alle due e mezza fui costretto a restare sulla banchina centrale della stazione di Kaplan Jansion in uniforme da prigioniero con le manette ai polsi come uno spettacolo per la folla mi avevano fatto uscire dall'infermeria senza darmi un momento di riposo ero più grottesco di qualsiasi altro immaginabile oggetto nel vedermi la gente si metteva a ridere ad ogni treno il circolo dei curiosi si ingrossava nulla li avrebbe divertiti maggiormente e tutto ciò è naturale fino a che non seppero chi io ero ma appena ne furono informati risero anche di più per una mezz'ora intera io rimasi là sotto la pioggia sottile di novembre in mezzo alla folla che mi scherniva e durante un anno da quel giorno ad ogni volger di sole alla medesima ora io piangevo per uno stesso spazio di tempo oh non è una cosa tanto tragica come sembra per i prigionieri le lacrime fanno parte dell'esperienza quotidiana una giornata in carcere senza pianto è una giornata in cui il cuore è duro e non è una giornata in cui il cuore possa essere felice adesso però comincio a provare più rimorso per coloro che risero di me che per me stesso certo quando essi mi fidero io non ero più sul mio piedistallo ero all'agonia ma sono le nature assai poco fantasiose che si preoccupano solamente degli uomini eretti su un piedistallo un piedistallo può essere una cosa del tutto irreale una gogna invece è una terribile realtà essi avrebbero dovuto saper meglio interpretare il dolore ho detto già che dietro il dolore c'è sempre il dolore sarebbe più usato dire che dietro il dolore c'è sempre un'anima ora beffarsi di un'anima in pena è cosa terribile nell'economia stranamente semplice del mondo non si riceve se non ciò che si dona e a coloro che non hanno abbastanza forza per penetrare l'aspetto esterno delle cose e sentire la pietà quale pietà si può dare se non quella del disprezzo riferisco queste cose semplicemente perché si comprenda quanto mi è stato difficile trarre dal mio castigo ben altro che amarezza e disperazione eppure mi tocca estrarne una cosa diversa e di quando in quando ho dei periodi di sottomissione e di rassegnazione la primavera intera può essere rinchiusa nell'unica gemmula di una pianta e il nido della lodola a fior della terra può contenere la gioia che annuncerà la comparsa di innumerevoli aurore color di rosa e di porpora così forse ciò che mi resta ancora di bellezza di vita era chiuso in qualche attimo d'abbandono di diminuzione di me stesso ed umiliazione tuttavia io posso semplicemente continuare a perseguire il mio proprio sviluppo e accogliendo tutto ciò che mi è accaduto rendermene degno alcuni avevano l'abitudine di dire che io ero troppo individualista ora più che mai mi occorre essere individualista devo cavar fuori da me stesso molto di più di quel che io ne abbia trattosi in qui ed esigere dal mondo assai meno di quanto gli abbia mai donato la mia rovina in vero deriva non da eccessivo individualismo ma dal suo difetto l'azione ignominiosa imperdonabile ed eternamente disprezzabile della mia vita fu di aver accondisceso a rivolgermi alla società per ottenerne aiuto e protezione scendere a questo sarebbe stato un errore dal punto di vista dell'individualismo ma quale scusante invocare dopo aver compiuto una cosa simile naturalmente una volta messa in moto le macchine della società essa si rivolse contro di me e disse come? lo hai vissuto fino ad ora disprezzando le mie leggi e ora vieni a domandarmi aiuto per mezzo di queste leggi stesse? bene ti saranno applicate col massimo rigore sarai obbligato a sottometterti alle leggi che hai invocato l'effetto è questo io sono in carcere certo nessun uomo cadde così ignobilmente e con dei metodi tanto ignobili l'elemento filisteo della vita non consiste nell'incapacità di comprendere l'arte ci sono degli esseri piacevoli come ad esempio i pescatori i pastori gli operai i contadini ed altri che non si intendono d'arte eppure sono il vero sale della terra filisteo è quelli che sostiene ed aiuta le forze meccaniche pesanti ingombranti e cieche della società e che non arriva ad ammettere un'energia dinamica quando si imbatte in essa sia incarnata in un uomo o in un'azione qualunque ha giudicato spaventevole da parte mia il fatto di aver invitato a pranzo dei cattivi soggetti ed essermi compiaciuto in loro compagnia ma dal punto di vista nel quale io mi ponevo come uomo d'arte essi erano deliziosamente suggestivi ed eccitanti il pericolo formava la metà del piacere in quanto artista avrei dovuto interessarmi solo Dariele e non mettermi a lottare con Calibano uno dei miei grandi amici un'amicizia decennale venne a trovarmi qualche tempo fa e disse che non credeva nemmeno a una parola di tutto ciò che si era macchinato contro di me e saugrava che io mi persuadessi d'essere considerato da lui assolutamente innocente e vittima di una vile congiura non potei frenare le mie lacrime nell'ascoltarlo e gli risposi che nonostante le accuse interamente false formulate contro di me e a malgrado delle colpe attribuitemi per malvagità imperdonabile tuttavia la mia vita era stata piena di piaceri crudeli e che non m'era più possibile restare il suo amico o trovarmi ancora in sua compagnia altro che a patto che gli accettasse la mia confessione e vi credesse pienamente fu per lui un grave colpo ma noi siamo rimasti amici e almeno non ho ottenuto il dono della sua amicizia con l'ipocrisia le forze dell'emozione come ho detto in qualche passo delle intenzioni sono altrettanto limitate in latitudine e in durata quanto le energie fisiche la piccola coppa che è foggiata in modo da contenere una data misura di liquido non può contenerne una stilla di più anche se le cantine della Borgogna traboccassero di vino e i vignai uoli pestassero sino al ginocchio il raccolto dei sassosi vigneti di Spagna non c'è errore più diffuso del pensare che coloro i quali sono le cause o le occasioni di una grande tragedia siano poi partecipi dei sentimenti che si convengano alla tragedia stessa nessun errore è più fatale che aspettarsi questi sentimenti da parte loro il martire nel suo sudario di fiamma può contemplare il volto del signore ma per colui che ammucchia le fascine e che attizza i ceppi affinché ardano lo spettacolo non è più impressionante della morte di un bue per il macellaio o della caduta di un albero per il boscaiolo o di un fiore per il grande falciatore dei prati le grandi passioni sono per coloro che hanno una grande anima e i grandi avvenimenti non possono essere veduti e compresi se non da quelli che sono al loro stesso livello in tutto il dramma dell'angolo visuale artistico io non conosco nulla che sia da paragonarsi alla creazione shakespeariana di Rosencrantz e di Guildenstern nulla che sia più suggestivo in quanto a finezza d'osservazione essi sono i camerati di Amleto ne furono già i compagni recano con sé il ricordo delle piacevoli giornate trascorse insieme nel momento in cui essi incontrano Amleto nel dramma egli vacilla sotto un pecio insostenibile per chiunque abbia il suo temperamento i morti sono balzati in armi dalla tomba per impedirgli un compito al tempo stesso troppo grande e troppo angusto per lui è un sognatore costretto all'azione Amleto è un poeta e gli ci comanda di misurarsi con la doppia complessione della causa e dell'effetto con la vita nella sua contingenza pratica della quale nulla conosce e non con la vita nella sua essenza ideale che gli penetra tanto bene egli non ha nessuna idea di ciò che convenga fare e la sua follia consiste nel simulare la follia brutto si servì della demenza come d'un mantello per nascondervi sotto la spada la daga della sua volontà ma la pazzia d'Amleto è una semplice maschera per dissimulare la propria debolezza facendo dello spirito abbandonandosi a degli scherzi egli crede di ottenere una via di scampo si ostina a giocare con l'azione come un artista gioca con una teoria fa la spia ai suoi stessi atti e sentendosi parlare egli sa che non sono altro che parole 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 invece di tentare di essere l'eroe della sua storia cerca di essere lo spettatore della sua tragedia dubita di tutto compreso se stesso e tuttavia il suo dubbio non l'aiuta perché non è effetto di uno scetticismo ma di una volontà che si scinde di tutto ciò Rosencrantz e Guildenstern non capiscono niente e si sorridono si piegano fanno i graziosi e quel che l'uno dice l'altro lo ripete sempre sul medesimo tono quando infine per mezzo del dramma intercalato nel dramma e delle tenerezze che si scambiano gli attori Amleto sorprende la coscienza del re e lo cazza dal suo trono miserabile e spaventato Guildenstern e Rosencrantz non vedono nel suo gesto che una penosa infrazione alle regole dell'etichetta di corte fino a questo punto e non più oltre che si possono giungere nella contemplazione dello spettacolo della vita con delle emozioni adeguate essi sono i più vicini al suo segreto e non ne sanno nulla e non dovrebbe a niente rivelarlo loro essi sono la piccola coppa che contiene una determinata misura e basta verso la fine come detto essi hanno trovato o troveranno una morte improvvisa caduti in un'insidia attesa per un altro ma una fine tragica di tal fatta benché lo spirito d'Ambleto la sfiori un poco con la sorpresa e la giustaria della commedia non si conviene realmente a dei personaggi come loro essi non muoiono mai Orazio il quale per difendere innanzi al malcontente l'ambleto e la sua causa muore ma Gildenstein e Rosenkrantz sono immortali come Angelo e Tartufo e devono essere collocati assieme a loro essi sono le metamorfosi che la vita moderna ha fatto dell'antico ideale dell'amicizia colui che scriverà un nuovo trattato di amicizia dovrà servare loro un cantuccio ed esserne l'elogio in proda tuscolana sono tipi ormai fissati per tutti i tempi censurarli equivalrebbe a mostrare una mancanza d'apprezzamento si trovano semplicemente fuori della loro sfera ecco tutto quanto a sublimità d'anima non c'è pericolo di contagio gli alti pensieri e le grandi emozioni sono isolati dal fatto stesso della loro esistenza se tutto va bene io sarò liberato verso la fine di maggio e spero di partire subito per qualche piccolo viaggio marittimo straniero con R ed M il mare come dice Euripide in uno dei suoi poemi su Ifigenia lava le macchie e le ferite del mondo spero di vivere almeno un mese con i miei amici di ritrovare la calma e l'equilibrio un cuore meno torturato e delle aspirazioni più tranquille trovo uno strano desiderio per le grandi cose semplici e primordiali come il mare che una madre per me al pari della terra mi sembra che tutti noi altri si contempli troppo la natura e viceversa si viva troppo poco in comunione con essa vedo una grande ragione nell'attitudine dei greci essi non ragionavano mai intorno ai tramonti del sole e nemmeno disputavano per decidere se le ombre sui prati erano violacee o no ma vedevano che il mare è fatto per il nuotatore e la sabbia per il corridore amavano gli alberi per l'ombra che diffondono e la foresta per il suo raccolto silenzio nell'ora del meriggio il vignaiuolo intrecciava dell'edra nei suoi capelli per difendersi dai raggi del sole quando si affaticava intorno ai tralci purmo nati e l'artista e l'atleta i due tipi che l'ellade ci ha dato intrecciavano in ghirlande le foglie dall'oro amaro e la cicuta che non sarebbero state altrimenti utili all'uomo siamo soliti denominare la nostra età utilitaria e non c'è una cosa sola di cui non sappiamo esattamente gli usi abbiamo dimenticato che l'acqua può forbire il fuoco purificare e che la terra è la madre di noi tutti per conseguenza la nostra arte è priva di luce come la luna e si diverte con delle ombre mentre l'arte dei greci ha i lampeggiamenti del sole e interpreta direttamente le cose sono convinto che c'è una purificazione nelle forze elementari e voglio ritornare ad esse e con esse vivere certo per uno spirito moderno come me figlio del mio tempo contemplare semplicemente il mondo sarà sempre una delizia terremo di piacere pensando che il giorno in cui sarò libero il citiso e di lillà fioriranno nei giardini ed io vedrò il vento agitare con una rabbrividente bellezza l'oro dell'uno e la pallida porpora dell'altro in modo che la terra avrà per me tutti i profumi d'arabia l'inneo cade in ginocchio e pianse di felicità quando vide per la prima volta le stese brughiere in un altipiano inglese tutte gialle dei fiori agresti e aromatici dai giunchi e io so che per me posseduto dallo stesso desiderio dei fiori ci sono delle lacrime che mi aspettano nei petali di una rosa è sempre stato così sino dalla mia infanzia non c'è una sola sfumatura nascosta in fondo al calice di un fiore non c'è la larva non c'è la curva e molle linea di una conchiglia a cui la mia anima per una misteriosa e sottile simpatia con l'anima delle cose non faccia eco come Teofilo Gautier io sono uno di quelli per i quali il mondo esterno esiste pur tuttavia ora ho coscienza che sotto tutta questa bellezza per quanto soddisfacente essa sia c'è qualche spirito nascosto le cui forme e i cui contorni dipinti non sono che pure manifestazioni ed è con questo spirito che voglio mettermi in armonia sono stanco delle formule fisse degli uomini e delle cose il mistico dell'arte il mistico della vita il mistico della natura ecco ciò che io cerco ho assolutamente bisogno di trovarlo in qualche luogo ogni volta che si subisce un giudizio tutta la vita viene giudicata come tutte le sentenze sono delle sentenze di morte e io sono stato ben tre volte in giudizio la prima volta lasciai la sala per essere arrestato la seconda per essere ricondotto al carcere di detenzione la terza per venire cacciato in galera per due anni la società come noi l'abbiamo costituita non avrà più alcun posto da offrirmi ma la natura le cui sottili piogge cadono dolcemente sui giusti e sugli ingiusti avrà nelle sue rocce delle fessure dentro cui mi nasconderò e delle valli inesplorate nel silenzio delle quali potrò piangere senza essere distratto essa appenderà delle stelle alle pareti della notte affinché io possa camminare senza inciampi in mezzo alle tenebre e manderà il vento a soffiare sull'ombra dei miei passi in modo che nessuno mi dia una caccia a morte la natura mi laverà nelle sue grandi acque e mi risanerà con le sue erbe amare a soffiare